Buongiorno, Orchidario di Morosoro, Orchidiano di Medicina per l'Anima. Oggi volevo raccontarvi una storia. Allora, nel 2008 è stato pubblicato il mio primo libro. Il primo libro che ho pubblicato io è stato Pholenopsis, guida a pratica e la coltivazione in casa. E dopo un paio di mesi, un amico a Delindo di Roma, ha scritto una bellissima recensione, in cui c'era questa frase che era bellissima, che diceva che c'è un certo signore che le vede nelle mostre oppure che escono dei garde con in mano la loro prima orchidea e la stringono in mano come fosse un trofeo e sicura che con le loro cure quella pianta lì sarà in paradiso. E dice, purtroppo sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi questa pianta qui volerà in paradiso per le assillante cure di questa persona. Ecco, quando si compra una pianta, bisogna prima di tutto sapere cosa si compra. Cioè sapere, per esempio, una cambria, vuole un po' in generale le cambia, perché poi le cambia sono un mondo, un po' più luce, un po' meno caldo, delle Pholenopsis. Le catere vogliono molta più luce, le vanda vogliono ancora più luce, cioè bisogna essere coscienti di che cosa si compra. Invece la maggior parte della gente, le prime volte, le prime che compro, perché poi col tempo si riesce a capire un po' di più. Non ascoltano quello che gli dici. Vedono una vanda, che bella, la voglio. Guarda che questa qui vuole molta più luce delle Pholenopsis. Ah, che bella, che bella. Non mi ha ascoltato. E dopo un po' sarà una delusione, tutta questa gioia che ha. Vedete, è come quando siamo adolescenti che ci innamoriamo per la prima volta. Non si guarda niente, si va. C'è una bellissima canzone di circa 50 anni fa, di Gianni Morendi, che si chiama Bella Belinda. Ho cercato su YouTube e l'ho trovata. E questa canzone rende bene l'idea che dice Bella Belinda è innamorata, parla da sola con l'insalata, non guarda il piatto ma la finestra, scende una lacrima nella minestra. E così siamo besuiti. Non è che sono tutti così, però la maggior parte, quando si iniziano con le orchidee, che vengono colpiti da questa magia delle orchidee, poi non guardano più niente, vanno a istinto. C'è questo bell'articolo che ha fatto un grande appassionato di Napoli, Giorgio Buccilli, bellissimo, che sarà sul prossimo libro, che dice il cuore sente, la mente ragiona, chi ha ragione, il cuore o la mente, ecco, tutte e due devono essere, bisogna usare tutte e due. Non è che sia tutti così, ci sono certi che sono molto, per esempio gli scienziati, Darwin, per esempio, quando all'età di 29 anni voleva sposare sua cosina, mentre tutti, quando devono sposarsi, pensano ai sentimenti, così si lasciano guidare dei sentimenti, Darwin era uno scienziato, ma era uno scienziato fino a Midollo, lui era proprio uno scienziato, e analizzava tutte le cose in modo scientifico, e anche per sposarsi, lui ha stilato, prima di sposarsi, un elenco di pro e contro il matrimonio, questo era 17 fogli, tutti siglati da Darwin, scritti in scrittura piccolissima, è stato scoperto nel 1943, quando la famiglia di Darwin ha ceduto tutti i materiali di Darwin all'Università di Cambridge, e tra tutti questi, più di 90.000 fogli, sono stati trovati queste 17 fogli, che c'era su matrimonio in alto, matrimonio sì, matrimonio no, e ha analizzato tutti in 17 fogli, ha tirato fuori un po' tutte le cose, e nonostante poi i motivi a favore del matrimonio erano molto meno di quelli a sfavore, si è sposato lo stesso, ed è stato un matrimonio lungo e felice, però il 99% invece si lascia guidare dal cuore e compro così, ed è magari giusto anche fare un'esperienza, e con quell'esperienza lì magari dopo la prossima volta ti regoli meglio, però è sempre bene prima di comprare una pianta capire che pianta stiamo comprendo, che esigenze ha, perché quando la compriamo è una grande gioia, e sarà una gioia che continua, se saremo in grado di mantenerla, mentre invece se compriamo una pianta che non sappiamo neanche che esigenze ha, e quando ce lo dicono, guarda che si tiene così, non lo ascolti neanche, non te ne frega niente, devi solo comprarle e basta, no, bisogna anche capire quali sono le esigenze della pianta, in modo che poterla curare, e averne anche una grande soddisfazione, che come dico sempre, le orchidee sono medicina per l'anima, ma fanno bene anche la salute, perché la gioia che ci danno, abbiamo queste, questa qui è la Pintedelict, questa qui, è magnifica, ci sono piante con due, tre, quattro rami, ci sono in boccello così, e poi abbiamo delle bellissime massai, tutte con tre, quattro rami, quattro rami, bellissime, e ne abbiamo qui parecchie, se vi interessano, la fioritura, perché sono belle bocceolate, vi durano fino a Natale tranquillamente, ok.